Ho deciso di venire a questo incontro perché casualmente quest'estate ho ricevuto in farmacia l'opuscolo sull'attivazione del metodo sull'indice glicemico, effettivamente ho avuto un grandissimo risultato. Vengo da Cesenatico, ho costretto mia figlia che è viva Milano a venire giù, mio marito oggi si è preso un giorno di ferie e mi piace il fatto che sia in collaborazione con Aboca perché già da tempo io uso questi prodotti e mi piace proprio anche tutta la filosofia di Aboca. Molto convinta dell'importanza dell'alimentazione consapevole, assolutamente credo che possa essere il futuro anche della medicina. Fate un pranzo, pranzo e cena, verdura cruda, verdura cotta, un pochino di pane, 30, 40, oppure dei cereali, oppure prendete anche una manciata di riso integrale cotto, oppure dei semi oleosi tipo noci, mandorle, provate e vi sentirete molto bene. È stata veramente un'esperienza interessante l'insieme delle due cose, la combinazione di un'azienda forte come Aboca e un professore, un medico importante che riesce a collaborare e che crede proprio nell'alimentazione come una prevenzione per la salute. Il colloquio e l'incontro di oggi non è altro che una migliore conoscenza diretta, abbiamo fatto i nostri interventi, i webinar, abbiamo fatto tante iniziative, ecco, occorreva abbracciarci e ci siamo abbracciati scientificamente oggi in questo splendida cornice che è Aboca. Grazie a tutti.